41 in gravita, over 45, mi dispiace doverlo sottolineare ogni volta, 49 lo posso, beh insomma merita un super applauso per la forma, per il collagio nel testo gioco, per tutto. 42 in ricardello Cristina. 65 Veneziano Stefania. 83, Patrizia e Nozza. 85, Mazzocca e Susanna. 96. 96, Tretola, Daniela. 99, Pallagino, Sabrina. 99, Pallagino. 45, Pallagino. Rossella Torsitano numero 119 Bene, ora le signore go...